Per esempio come fa il corso di Roma, è inutile che ti lamenti del traffico, perché ci sono persone che quando sono nel traffico si lamentano, ma è inutile che ti lamenti del traffico, perché tu sei il traffico, tu fai parte del traffico, cosa ti lamenti del traffico? Un altro si lamenterà di te, che gli stai rompendo i maroni, tu fai parte del traffico, quindi non ti puoi lamentare di quello che sei, se sei dentro al traffico fai parte del traffico. E non è che se il traffico è una cosa esterna a te e che tu ti lamenti, ah c'è il traffico, esatto, io non mi lamento mai del traffico, perché io sono il traffico, quindi non serve lamentarsi, però tu puoi cambiare. Ma infatti non sono un Buddha, Barbara Mascolo, la Buddha sei tu, la Buddha sei tu, io non sono manco buddista, io non sono né buddista né Buddha, quindi sono un simpatizzante, un simpatizzante. Quindi, se noi siamo nel traffico non possiamo lamentarci del traffico, ciao Giovanna Testa Dura, ciao Giovanna Testa Dura, vabbè, quindi, ok urla, quindi noi praticamente non possiamo lamentarci del traffico, però possiamo interagire nel traffico e cambiare il traffico, ad esempio mi fermo, se io mi fermo, come dire, posteggio la macchina, Giovanna Testa Dura, ah no, Testa Doro, ah, pensavo Testa Dura, Testa Doro.